Imminente prima campanella per 35.643 studenti piacentini, distribuiti in 34 istituti e in 1.709 classi. Un dato in lievissimo calo dello 0,1% rispetto allo scorso anno, mentre gli alunni con handicap sono aumentati del 6,6%. Sono i dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale, dai quali emerge che in tutta l'Emilia-Romagna gli alunni sono circa 620.000, di questi quasi 550.000 nelle scuole statali e più di 75.000 in quelle paritarie, la maggior parte, circa il 70%, in quelle dell'infanzia. Tornando alla provincia di Piacenza, il personale docente è di 3.936 unità, suddivise in 3.175 posti comuni, 363 posti a sostegno e 398 posti a sostegno in deroga, mentre il personale ATA totale è di 1.044 unità. Oltre alle risorse umane si aggiungono quest'anno quelle finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione, per far fronte alla situazione emergenziale sanitaria. Alle scuole piacentine sono destinati oltre 9.300.000 euro. I fondi assegnati saranno utilizzati per il conferimento di incarichi temporanei necessari alla realizzazione delle attività didattiche nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica, anche in deroga al numero minimo e massimo di alunni per classi. Grazie. 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 Grazie.